Voi credete che la paura non sia reale? Che sia solo un problema psicologico? Noi esistiamo per dimostrare il contrario. Ma cosa? Presto, Federico! Abbiamo bisogno del tuo aiuto! Ben presto! A niente l'ho tutto ciò che ami! Ma dove siamo? Nel futuro. No! Devi prendertela solo con me! E questo non è che è l'inizio! No! 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 Grazie a tutti